Ma devo condividere lo schermo però. Io ho dato la possibilità ai partecipanti di condividere lo schermo, quindi vai pure. Bene, buonasera a tutti. Bene, non rubo altro tempo, abbiamo già parlato abbastanza, volevo dare un saluto ai relatori di questa sera, Lelio Baldeschi che non ha bisogno di presentazioni, è stato anche presidente della SICOP, è uno dei massimi esperti a livello internazionale di orbita e che stasera ci farà sentire i suoi pareri sulla patologia infettiva dell'orbita. Poi ci sarà una collega della Scuola di Napoli che presenterà un caso clinico, per cui non rubo altro tempo, direi che Francesca può introdurre Lelio, far partire la presentazione e poi alla fine Luigi Colangelo insieme a te potrà anche... Paola a buona volontà che farà da moderatrice, scusa Paola mi stavo quasi dimenticando di te. Quindi la parola a Lelio, salvo avvisi che Francesca o Luigi debbano fare, altrimenti poi alla fine ricorderemo ancora sia il congresso nazionale che il webinar. Grazie a tutti per la partecipazione e buon webinar. Penso che non ci sia necessità di presentare il professor Baldeschi che è professor ordinario a Bruxelles, lavora anche in Italia, a Pisa, attualmente è qui in Italia. Lelio, ci sei? Lelio? Vediamo dove è Lelio. Lelio? Devi riuscire. Ecco, dovrebbe attivare l'audio. Arrivo. Eccoci qua. Ho qualcosa che mi blocca lo schermo, c'è scritto questa riunione in diretta streaming, l'audio... Ok, devo solo pigiare preso per to... Ok, perfetto. Condivido lo schermo e possiamo partire. Mi sentite? Sì, 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 vai, procedi pure, Lelio, perché noi stiamo disattivando l'audio. Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Ci facciamo questa chiacchierata sulle infezioni dell'orbita. Abbiamo deciso di dare un taglio molto pratico in modo che l'esperienza di quelli un po' più vecchiotti possa alla fine risultare utile ai più giovani. Quindi non parleremo dei batteri coinvolti che fondamentalmente potete trovare su tutti i libri, ma fondamentalmente di quello che possono rappresentare le infezioni orbitarie nella pratica clinica. L'orbita è un sistema complesso di strutture e di cavità virtuali. Ognuna di queste o tutte possono essere passibili di infezioni. Classicamente, diciamo, le infezioni orbitarie, secondo Smith & Spencer e poi modificate by Chandler, implicano vari distretti passibili appunto di infezione. Dicevo, secondo la classica classificazione, si dividono vari distretti a livello orbitare e passibili di possibili infezioni. Si ha così la cellulite presettale, la cellulite orbitaria, l'ascesso subperiosteo, l'ascesso orbitario e la trombosi del seno cavernoso. In realtà già qui si parte male perché in realtà quello che viene definito ascesso subperiosteo non esiste perché non è un ascesso ma un flegmone. L'ascesso è definito da un punto di vista anatomopatologico da una precisa struttura, ha una sua parete esterna organizzata. Qui invece è solo una raccolta saccata di pus e quindi è un flegmone e non un ascesso orbitario. Dunque io preferisco separare la cellulite pretarsale dalle reali infezioni orbitarie, cioè la cellulite orbitaria vera e propria e l'ascesso orbitario e il flegmone subperiosteo. Cosa a sé stante è ancora la trombosi del seno cavernoso. Questo perché? Perché in realtà non è una prosecuzione di gravità di infezione, cioè non è detto che un'infezione inizi a livello presettale e poi necessariamente diventi un'infezione orbitaria nelle sue tre forme e magari anche un'infezione ed una trombosi del seno cavernoso. Quindi io preferirei tenerle separati. Quindi anche se tutto questo può essere compreso nel capitolo più grande delle infezioni orbitarie, vale la pena di fare un distinguo. Dunque per quanto riguarda la fisiopatologia di queste affezioni, com'è che i germi possono arrivare alle varie strutture? Beh, lo possono fare per inoculazione diretta, per un'estensione dalle strutture vicine, in particolare dai seni paranasali, ma anche da cavità virtuali, come per esempio il sacco lacrimale o dalla cute stessa, oppure possono arrivarci per via ematogena. Le infezioni che colpiscono l'orbita a partenza dalle strutture vicine, quindi che colpiscono l'orbita in via secondaria, sono la maggior parte, rappresentano circa il 60-65% delle infezioni orbitarie. Per quanto riguarda la fisiopatologia, sia nel bambino soprattutto, ma anche nell'adulto, la particolare struttura dell'orbita composta da diverse ossa, otto, e da diverse suture, porta facilmente batteri che occupano strutture vicine all'interno dell'orbita stessa, o comunque nello spazio virtuale che esiste tra il periostio e le ossa che vanno a comporre l'orbita. In particolare, la lamina papiracea è una struttura assai fine, molto spesso interrotta, almeno a livello microscopico, e che quindi può dare facilmente passaggio, insieme alle varie suture non ancora formate, per esempio nel bambino, ai germi che dalle cavità nasali arrivano all'orbita. Un altro aspetto interessante da prendere in considerazione quando si parla di infezioni orbitarie è il particolare sistema venoso. Dunque, le vene orbitarie e della faccia in generale non sono dotate di valvole, quindi molto spesso i flussi possono trovarsi invertiti. Quindi, la cavità orbitaria e il sistema venoso facciale drena principalmente al plesso, diciamo, pterigoideo, ma anche al seno cavernoso. Ed è per questo che in caso di infezioni di questi distretti, faccia ed orbita, spesso metastasi, fra virgolette, infettive, possono arrivare al seno cavernoso e causarne la trombosi. L'eziologia fondamentalmente nella popolazione pediatrica è di tipo monostrain, mentre nell'adulto è pluristrain. Quali sono i germi principalmente coinvolti, anche se ce ne sono assai di più di quelli che ho elencato qua, ma tipicamente nella popolazione pediatrica l'eziologia delle infezioni è dovuta all'emophilus influenzae. Questo sembra quasi una... così può risultare, eccoci, così a prima vista difficile da capire, in quanto i bambini oggigiorno sono tutti vaccinati contro l'emophilus. Quindi per quale motivo l'emophilus continua a creare questo tipo di problema? Beh, in effetti il vaccino è per i tipi di emophilus conosciuti e sono sei, ma in realtà l'emophilus non tipizzabili sono molti di più ed è proprio a questi che sono dovute le infezioni. Negli adulti invece c'è un cocktail di batteri tra i più vari che vedete elencati qua. Comunque siano, diciamo, indipendentemente dall'eziologia e dalle patogenesi, un'infezione orbitaria è sempre un qualcosa da guardare con grandissimo sospetto perché è un pericolo enorme sia per quanto riguarda la vista, ma soprattutto per la vita. Quindi devono essere riconosciute e curate. Per questo è importante poter riconoscerle appunto, quindi poter fare a livello clinico una diagnosi differenziale, diciamo, la più precisa possibile. Qui vedete una tipica cellulite orbitaria. I segni dell'infiammazione sono i classici, rubor, calor, tumor, dolor. Nei pazienti di colore questo può essere un pochettino più difficile da, come dire, da valutare a livello clinico, però eccoci, una iperpigmentazione della regione più o meno equivale al nostro rossore, diciamo, al rossore nell'etnia caucasica e il calore può essere facilmente, diciamo, percepito semplicemente al tatto. La cellulite orbitaria può avere appunto varie forme, può essere, diciamo, di origine sconosciuta, come in questo caso, magari la porta d'entrata, che certamente c'è, può essere semplicemente la puntura di un insetto, ma a distanza di qualche giorno non è più visibile, passa inosservata e quindi si vede solo l'effetto. Oppure, come in questo caso, semplicemente delle schegge di legno penetrate nella palpebra di questo falegname. Oppure, in quest'altro caso, la porta d'entrata sono le lenti di un occhiale rotto, che hanno ovviamente creato sia una cicatrice, ma anche ovviamente un'infezione dal momento che non possono essere sterili. Si può avere una cellulite orbitaria a causa di un foruncolo, e il foruncolo è una delle cose da prendere in maggior considerazione, perché la trombosi del seno cavernoso, nella maggior parte dei casi, viene proprio da una manipolazione di foruncoli o di, diciamo, raccolte saccate a livello del sacco lacrimale. Quindi un foruncolo è una cosa da prendere in grande considerazione, non è una patologia minore da lasciare agli specializzanti. La cellulite nei bambini, anche in questo caso, è abbastanza frequente. Spesso si tratta di infezioni dei seni paranasali che si estrinsecano solo all'orbita anteriore, cioè appunto allo spazio presettale. Talvolta, invece, come negli adulti, può essere dovuta a una semplice puntura di insetto, è venuta, diciamo, con trasmissione di germi. Per quanto riguarda la diagnosi differenziale che accennavo prima, la si deve porre con le patologie più frequenti. Non sempre un gonfiore perioculare rappresenta un'infezione. Talvolta, come in questo caso, può essere semplicemente un'oftalmopatia tiroide correlata e nel caso di cellulite orbitaria solitamente è monolaterale, viceversa per quanto riguarda l'oftalmopatia tiroide correlata è di solito bilaterale. Certo è che nei impazienti con un ponte nasale piuttosto basso non raramente l'edema, anche senza una vera e propria cellulite, può passare all'orbita controllaterale, quindi può confondere un pochettino il quadro clinico. Altra possibilità sono malattie da differenziale naturalmente, perché in questo caso c'è bisogno di una terapia diversa rispetto a questo. Le malattie dell'area reumatologica, come in questo caso il lupus eritematoso sistemico, spesso si estrinsecano con delle cellulite orbitarie asettiche e vanno trattate con i farmaci per questo tipo di malattia, rituximab per esempio, ma anche clorochina o quant'altro. A questo proposito naturalmente bisogna vedere anche altri segni, come per esempio l'acropatia che questi pazienti presentano. Tuttavia l'aspetto periorbitario non è così diverso da quello di una cellulite orbitaria. Quindi fate sempre attenzione quando vedete una presunta cellulite orbitaria che certamente ha bisogno di una terapia antibiotica mirata, però se non recede dopo qualche giorno di trattamento, deve essere instaurata eventualmente una terapia antibiotica adeguata dopo aver fatto un eventuale prelievo e un antibiogramma, bisogna sospettare qualcosa di diverso. Altra situazione in questo caso, per esempio, una dacrio adenite asettica in corso sempre di lupus eritematoso sistemico può simulare molto da vicino una dacrio adenite infettiva con una estrinsecazione a livello palpebrale. La sarcoidosi. La sarcoidosi in fase acuta anche essa può simulare, però anche in questo caso, vedete, è bilaterale il problema e qui non recede con una terapia antibiotica, ma con una terapia immunosoppressiva, per esempio il classico prednisone. Che dire poi della più tipica affezione infiammatoria dell'orbita, il vecchio pseudotumor, ovvero una infiammazione orbitaria a specifica. Anche questa può simulare molto da vicino la cellulite orbitaria, sebbene non receda ad alcuna terapia antibiotica. Detto questo, per quanto riguarda l'adulto, anche per il bambino, fondamentalmente si pongono delle diagnosi differenziali per quanto riguarda la cellulite presettale. Non raramente si possono avere lesioni tipo questa, solide, più importanti di una lesione tipica, diciamo infettiva, come può essere invece quest'altra. In questo caso, per esempio, si trattava di un tubercoloma primario, quindi certamente un'infezione, però in realtà non è un'infezione diretta, ma una localizzazione di una tubercolosi generalizzata. Quindi la terapia è ben diversa, non si tratta di andare a dare un antibiotico a largo spettro, ma serve una terapia mirata per poter curare appunto questa, non solo questa, ma anche altre localizzazioni della tubercolosi. Altra diagnosi differenziale nei bambini, specie se vivono in zone rurali, vicino a fiumi, o vicino a fossati, o comunque pozze d'acqua, è la diagnosi differenziale con la leishmaniosi, che alle nostre latitudini è abbastanza rara, ma non rarissima. Chiaramente la leishmaniosi non è una patologia infettiva, cioè non è data da batteri, ma è una parassitosi, per cui deve essere trattata conseguentemente. Chiaro che ne esiste una forma sistemica, una forma localizzata, una forma cutanea localizzata è quella che a noi più interessa, anche perché pur rimanendo, pur necessitando di un trattamento prolungato nel tempo, può guarire con adeguata terapia topica, come potete vedere in questo caso, a distanza di una decina di giorni, fondamentalmente la lesione è in fase di regressione. Per quanto riguarda invece il discorso delle infezioni orbitarie vere e proprie, cioè la cellulite orbitaria, ovvero un'infezione che non porta ad una raccolta saccata di pus, ma che interessa vari tessuti all'interno dell'orbita. Il vero e proprio ascesso orbitario, cioè una raccolta saccata organizzata con una parete organizzata di, diciamo, specifica e l'ascesso, ovvero il flegmone subperiosteo, che in realtà non è un ascesso, ma è solo una raccolta saccata. Ecco, per quanto riguarda questi, questo tipo di lesioni è di primaria importanza una diagnosi differenziale, soprattutto nel bambino. Perché? Perché la cellulite, l'ascesso o il flegmone sono la prima causa di esoftalmo acuto nel bambino, seguiti subito a ruota dal rabdomiosarcoma, in particolare nei bambini dai 5 ai 7 anni. Quindi nel momento in cui si vede un esoftalmo acuto nel bambino, in considerazione anche dell'aspetto del rabdomiosarcoma, la prima cosa da pensare è certamente la cellulite orbitaria, ma non insistere troppo con gli antibiotici, perché troppo spesso bambini trattati per mesi con antibiotici per celluliti o ascessi, in realtà presentano dei rabdomiosarcomi. Quindi è di primaria importanza, soprattutto nel bambino più che nell'adulto, la diagnosi differenziale tra una cellulite orbitaria, quindi una ragione di esoftalmo acuto, ed il rabdomiosarcoma, che poi è il tumore più frequente nell'infanzia. È chiaro che anche i bambini possono avere delle infezioni, quindi il più delle volte hanno delle infezioni. Vedete qui c'è la porta di entrata, una cellulite orbitaria. In realtà, se si vede la radiologia, la porta di entrata che è a questo livello, in realtà è solo una porta di uscita, perché è semplicemente la fistulizzazione di un noflegmone sotto periosteo. Quindi non limitarsi mai solo a guardare la cute e derubricare l'infezione a cellulite orbitaria anteriore o posteriore, ma andare oltre, fare sempre il necessario imaging, tanto più che una TAC spirale prende solo pochi istanti, non c'è bisogno di anestesia anche nei bambini, e quindi fondamentalmente si può fare una diagnosi precisa solo con un adeguato supporto radiologico. Quindi non fermarsi mai a vedere l'eventuale sospetta porta d'entrata, specie se manca una storia di trauma. Fondamentalmente gli ascessi o comunque i flegmoni sotto periostei solo raramente richiedono un drenaggio da parte nostra del chirurgo dell'orbita. Il più delle volte, una volta ripuliti i seni paranasali, basta che l'otorino faccia una piccola breccia ossea e il lavoro dell'oculista può essere limitato ad applicare una certa pressione sull'occhio in modo da promuovere la fuoriuscita del pus dalla cavità virtuale che si forma tra l'osso orbitario interessato e il periostio. Talvolta, se in caso di raccolte particolarmente copiose, è necessario, come in questo caso, andare a fare un drenaggio diretto e mettere un drenaggio di Penrose. Come si drena un ascesso orbitario o comunque un flegmone? Deve essere inserito un drenaggio e dopo averlo segnato si retrae giornalmente il drenaggio lavandolo in modo che l'ascesso vada a chiudersi gradualmente nella parte più profonda. Quindi il drenaggio non deve essere tolto completamente, immediatamente dopo l'intervento, ma deve essere tolto gradualmente nei giorni successivi. Oltre a queste raccolte saccate si possono avere dei muco pioceli, come in questo caso, che oltre a creare esoftalmi importanti possono portare a stiramento e sofferenza del nervo ottico e devono essere drenati in maniera adeguata. Spesso anche in questo caso sono gli otorini ad occuparsene dopo che l'oftalmologo ha dato il suo contributo nella diagnosi, ma naturalmente è una patologia che anche di nostra pertinenza e può essere facilmente trattata anche con accesso transorbitario. Di particolare importanza sono quelle raccolte saccate, quindi quei flegmoni o quegli ascessi nei quali i batteri producono gas, perché queste sono delle lesioni particolarmente pericolose per la vista, in quanto facilmente la tensione e la pressione intraorbitaria arriva a livelli tali da occludere l'altea centrale della retina. Per esempio in questo caso il paziente arrivò vedente in ospedale nel tempo che stava facendo l'attack, praticamente perse la vista, vedete qui quanto è stirato il nervo, perse la vista sotto attack e fortunatamente fumo chiamati in tempo per infiggere semplicemente un ago che portando fuori il gas ridette la possibilità di perfusione alla retina e quindi la vista fu in questa maniera salvata. In particolare questo tipo di ascessi o comunque di flegmoni è molto, come dire, problematico nel trattamento, perché non solo basta andare a drenarlo, bisogna ripulire tutti i tessuti necrotici che spesso sono presenti e successivamente si rende il più delle volte necessario inserire dei lembi molto fini, dermoadiposi, per permettere lo scorrimento dei muscoli sulle superfici ossee interessati da questo tipo di affezione, perché il più delle volte si salda completamente il muscolo interessato, in questo caso era l'elevatore della palpebra, si salda completamente all'osso, quindi va separato e va interposto un lembo dermoadiposo in modo da permettere lo scorrimento dei piani. Anche gli adulti, così come i bambini, possono essere colpiti da ascessi orbitari o da flegmoni. In questo caso, come vedete, non solo c'è un flegmone orbitario, ma c'è anche un'estensione intracranica. In questo caso si deve curare il flegmone orbitario drenandolo, non necessariamente deve essere drenato la raccolta saccata al di sotto della dura a livello cerebrale, può bastare il più delle volte antibiotico-terapia. Anche se non è rotta la barriera ematoencefalica, ci sono antibiotici come il ceftriazone che passano la barriera ematoencefalica anche quando non è rotta e riescono a risolvere il problema. Se questo non è il caso, allora bisogna drenarlo, quindi è necessario chiedere l'aiuto di un neurochirurgo e attraverso una craniotromia andare a drenare l'ascesso in questione. Negli adulti di solito si hanno degli ascessi in persone immunodepresse. Vedi pazienti affetti da HIV, epatite, ma anche e soprattutto pazienti alcolisti. Nel nord Europa la maggior parte delle infezioni orbitari in adulti è in pazienti alcolisti. Un'altra categoria di pazienti sono i neri del Golfo di Guinea. Perché? Perché sono affetti da anemia a cellule falciformi. Se da una parte l'anemia a cellule falciformi li ha salvaguardati dalla morte per malaria, ha selezionato una popolazione ammalata che più o meno riesce a raggiungere a malapena la quarta decada di vita, ma sono cagionevoli di infezioni multiple e basta un'estrazione dentaria per portare i germi a livello orbitario attraverso i canali ossei. Anche le tasche paradentarie, come in questo caso, possono creare dei problemi e possono poi portare ad infezione dei seni paranasali e ad infezioni orbitarie. Un'altra fonte di infezione orbitaria è l'acute. L'erisipiela fondamentalmente, la cui eziologia è imputabile agli streptococchi beta-emolitici di gruppo A, ma anche agli stafilococchi e ad altri germi, fondamentalmente colpisce, nella maggior parte dei casi, le gambe in pazienti soprattutto che sono stati sottoposti a safenectomie o comunque hanno un'insufficienza venosa profonda. La faccia invece è spesso colpita, appunto nell'erisipiela, nei pazienti diabetici e proprio per questo fatto i diabetici possono sviluppare spesso delle infezioni orbitarie dovute all'erisipiela facciale e conseguentemente all'arrivo a livello orbitario per la particolare vascolarizzazione della faccia che abbiamo visto all'inizio di questa chiacchierata. Anche gli adulti possono avere come bambini dei muco pioceli che necessitano ovviamente di trattamento, oppure possono avere delle infezioni orbitarie per inoculazione. In questo caso, vedete, c'è un'interruzione del muscolo retto mediale per il fatto che questa signora è semplicemente caduta su uno stecco in giardino e la penetrazione del legno ha cagionato questa infezione, quindi ha cagionato una cellulite orbitaria profonda. Niente ascesso e niente flegmone. Qui è un altro esempio di un trauma con dislocazione di frammenti ossei, ma fondamentalmente il principio è lo stesso, inoculazione. Credo che possiamo terminare con qualche parola sulla fascite necrotizzante e le dacriocistiti per le possibili conseguenze, come dire, catastrofiche che ambedue possono creare. La fascite necrotizzante fondamentalmente è dovuta agli streptococchi beta-emolitici di gruppo A. Questi germi sono anche cause di malattie metafocali, per cui una volta risoltasi, se in maniera positiva, l'infezione, con la sopravvivenza del paziente, perché molto spesso questi pazienti vengono a mancare, in epoca pre-antibiotica il 100% di questi pazienti moriva. Oggi la mortalità è dell'ordine del 30-40%, quindi sempre molto, molto alta. Dicevo, in caso di sopravvivenza la terapia deve essere prolungata, in quanto le malattie metafocali sono sempre in agguato. Qual è il trattamento? Il trattamento chiaramente è non solo del batterio responsabile, ma soprattutto della tossina, perché questi effetti non sono dati dal batterio, ma dalla tossina necrotizzante. Quindi una volta che noi vediamo pazienti di questo genere, che ripeto sono a rischio per la vita, con un rischio per la vita del 40%, ed un rischio per la funzione visiva, quasi del 100%, perché questi pazienti vanno in conto precocissimamente ad un'occlusione dell'arteria centrale della retina, non solo per conseguenze meccaniche, ma anche proprio per conseguenze infettive. Ritornando un passo indietro, cioè perché questi pazienti ha bisogno di un trattamento antibiotico? Il trattamento serve innanzitutto ad eliminare il batterio responsabile, cioè lo streptococco beta-emolitico di gruppo A, ma soprattutto per inattivare la tossina. Dunque c'è solo un antibiotico che può inattivare la tossina, ed è la clindamicina. Quindi questi pazienti devono ricevere penicillina o comunque cefalosporine di terza generazione ad altissimo dosaggio per curare l'infezione da streptococco, e in più devono ricevere al massimo dosaggio la clindamicina per inattivare la tossina che poi è responsabile della necrosi tissutale. Senza la clindamicina la malattia progredisce, perché è anche in assenza e in sterilità di culture, perché ripeto, è la tossina che deve essere inattivata e non il batterio. La clindamicina deve essere data a dosi di circa 3 grammi al giorno, però questa dose è nefrotossica, quindi bisogna monitorare la funzione renale in maniera assolutamente precisa, perché il rischio di perdere il paziente per la tossicità della clindamicina è elevatissimo. Altro grosso rischio è quello di perdere il paziente per una sovra-infezione da clostridi della cangrena gassosa, che sono anaerobi obbligati. La tensione a livello tissutale crea una carenza di ossigeno, quindi è fondamentale andare a fare un debridement, cioè a rimuovere tutti i tessuti necrotici, diminuire la pressione all'interno dei tessuti e lavare, questo è un pochettino i passaggi chirurgici fino all'eviscerazione di uno dei due occhi e alla rimozione completa di tutti i tessuti necrotici. Una volta fatto questo, bisogna irrorare le cavità e gli ascessi, vedete qui c'è un drenaggio, anche qui ci sono ascessi, le cavità che si sono venute a creare e tutti i tessuti interessati con abbondante acqua ossigenata, che liberando appunto ossigeno previene la super-infezione da clostridi della cangrena gassosa. Questo poi alla fine è il paziente sopravvissuto a questo tipo di insulto. Un occhio fortunatamente siamo riusciti a salvarlo, qui invece siamo stati costretti a fare un'eviscerazione e una palpebra è stata persa. Quindi poi alla fine i danni tessutali, una volta trattato il paziente, tutto sommato sono di nostra pertinenza, perché insomma qui è poco più che la ricostruzione di una palpebra che si può mettere in campo quando andiamo a togliere un tumore. Quindi tutto sommato se riusciamo a far superare a questi pazienti la fase acute, abbiamo nella nostra faretra le frecce a sufficienza per poi ridare a questi poveretti un aspetto diciamo più che dignitoso. Termino parlando delle infezioni tipiche del nostro campo, e cioè delle datiocistiti. Qui avete tre pazienti che hanno aspetti diversi, ma solo due sono pazienti che debbono essere trattati con antibiotici. Il terzo invece è una cosa completamente diversa. Ora, non essendo troppo interlocutoria, perché se fossimo diciamo live sarebbe più facile discutere, parlare e far domande, in realtà vi chiederei qual è fra queste quella che non deve essere trattata con antibiotici. Beh, la risposta è questa. Questa signora ha un carcinoma del sacco lacrimale, vedete non c'è solo un gonfiore inferiore al tendine mediale, ma anche superiore. Quando si vede questo tipo di aspetto è sempre molto molto sospetto. In questo caso invece vedete la tumefazione è al di sotto del tendine, e in questo caso sì è al di sopra, ma non coinvolge invece la porzione di sacco al di sotto. Questo è semplicemente un foruncolo in un paziente immunodepresso HIV positivo. Questa è una dacriocistite, questo invece è un carcinoma del sacco lacrimale. Dunque, perché ho parlato di questo, della dacriocistite? Perché la dacriocistite è una delle cause principali della metastatizzazione al seno cavernoso, e la trombosi del seno cavernoso è un evento assolutamente da evitare, perché anche in questo caso siamo di fronte ad una mortalità elevatissima, e anche oggi siamo più o meno ad un 30-40% di mortalità. Il responsabile, diciamo, perché avviene questa metastasi, lo abbiamo visto, è la particolare struttura venosa dell'orbita e della faccia che può portare facilmente i germi a livello del seno cavernoso, dove si fermano, perché il seno cavernoso a altri non è che una specie di filtro venoso, è pieno di seppimenti, diciamo, e quindi facilmente intrappola i germi. Anche qui la diagnosi differenziale è importante, perché potremmo trovarsi davanti a cose completamente diverse. Vedete, questo è il tipico aspetto, oftalmoplegia e chemosi marcatissima. Però l'oftalmoplegia e la chemosi ce l'abbiamo anche in casi molto gravi di oftalmopatia tiroide correlata, cioè non c'è differenza tra questo quadro e questo, ovviamente se non ci fosse la radiologia, da un punto di vista clinico sto parlando. Oppure questo, questa è una paralisi del terzo che qualche collega, come dire, un poco avventato, ha pensato bene di trattare iniettando la palpebra con la tossina botulinica, nella speranza di farla abbassare e proteggere l'occhio, appunto con una paralisi del terzo. In realtà la tossina botulinica fuoriuscita dal lago non ha paralizzato il muscolo elevatore della palpebra, che era rimasto, come dire, indenne dalla paralisi del terzo e nella speranza di chi ha inoculato la tossina botulinica era appunto quella di paralizzarlo, ma ha paralizzato l'orbicolare. Quindi povera donna con paralisi del terzo, con una paralisi indotta, fra virgolette, botulino dipendente dell'orbicolare e quindi questo era il quadro clinico. Anche qui una stasi, come si può avere nella trombosi del seno cavernoso, trombosi della vena oftalmica superiore, la si ha anche nel momento in cui si viene a sviluppare una fistola carotido cavernosa. I sintomi sono più o meno uguali, perché anche una fistola carotido cavernosa crea fondamentalmente un impedimento all'efflusso venoso e non raramente si hanno dei sintomi assai simili. Che dire, da un punto di vista però squisitamente clinico, la trombosi del seno cavernoso in certe situazioni è assolutamente desiderabile, anzi, l'andiamo cercando. Per esempio, in questo tipo di situazione, con uno stecco di bossio piantato nell'orbita e che attraverso l'orbita arriva fino al seno cavernoso, in realtà non ho i fotogrammi perché li ho in Belgio, ma questo stecco di bossio arrivava fino al forame magno, passando attraverso il seno cavernoso. Dunque, dicevo, la trombosi del seno cavernoso in certe situazioni, come in questa, ci può essere assolutamente utili, anzi va ricercata, ovviamente dando la protezione adeguata da un punto di vista antibiotico ai pazienti e anche antifungino. Perché è importante? Beh, è importantissimo perché in una situazione del genere, se estraessimo d'amblè questo corpo estraneo, uccideremmo il paziente per un sanguinamento intracranico e non c'è modo, anche aprendo l'encefalo, di suturare un seno cavernoso. Dunque, il seno cavernoso non è operabile. Quindi l'unica cosa che possiamo fare è attendere che si formi una trombosi del seno cavernoso e questo lo si vede, noi oculisti, dopo che i sintomi sono diventati palesi. Quindi da questo momento a questo momento è passato circa una settimana trombosi del seno cavernoso, diciamo clinicamente evidente e radiologicamente dimostrata, estrazione del corpo estraneo. Quindi trombosi del seno cavernoso talvolta è, come dire, è benefica per il nostro lavoro. Un'altra, e questa è una curiosità, fondamentalmente non ho parlato delle infezioni fungine perché sono piuttosto rare, le ritroviamo però in pazienti immunodepressi, ripeto, rari, ma anche in pazienti con cachesia neoplastica che ovviamente per definizione sono immunodepressi. Quindi una delle procedure più frequenti nel nostro campo, cioè una esenterazio orbita per un tumore o per una metastasi che invadeva in maniera massiccia l'orbita, può esitare in un'aspergillosi. Vedete qua una raccolta di aspergillo. E chiaramente non vale niente una terapia con fluconazzolo, chetaconazzolo per via sistemica. Serve solo a defedare ulteriormente il paziente. Lì è necessario semplicemente irrorare in maniera abbondante l'orbita con l'eusol paraffina. Eusol è una soluzione di clorexidina. Anche la clorexidina, diciamo, comunemente presente nei nostri reparti, può essere ben più utile di quanto non sia il, diciamo, farmaci per via sistemica che non raggiungerebbero mai, proprio per la scarsa vascolarizzazione della cavità exenterata, non raggiungerebbero mai la zona infetta. Quindi il messaggio che io ho cercato di dare questa sera lo potete vedere qua. Non credo sia necessario che io legga punto per punto, perché tutto sommato è solo una sintesi di quello che ho detto fino adesso. Vi ringrazio per l'attenzione che mi avete dedicato e sono qua per le vostre domande. Grazie. Grazie, Lelio. Bene, la parola alla moderatrice. Vai, Paola. Dottoressa Paola, buona pronuncia. Sì, ci sono, ci sono, riattivevo l'audio e per parlare ora siamo vincolati ai nostri microfoni e non più alla nostra voce. Innanzitutto, moderare Lelio è complesso, è una persona con una tale cultura che chiaramente non possiamo che ringraziare ogni volta per le sue relazioni. Quello che io trovo molto bello di questo argomento è un po' in sé la sua complessità, perché ci riporta a essere forse un po' più medici che specialisti. Bisogna porsi tante domande davanti ai sospetti per indirizzare poi dopo il paziente verso l'opportuna terapia. Parlavamo dell'aspetto della fascite necrotizzante, allora quali tipi sono i coinvolti, il tipo 1, il tipo 2, un'infezione di più microbi, aerobie, enerobie. Ci riporta un po' indietro. Noi siamo molto più abituati a guardare nella nostra scatola e ci sentiamo confianti con questa. Invece il doversi portante domande, indagare anche con la giusta radiologia. Allora, quando chiedere un ATC, quando una risonanza, se vogliamo studiare la raccolta dei fluidi nella fascite necrotizzante per capire quando attuare necessariamente il debridement oppure la ricerca dei funghi, della fungus ball, in quei rari casi che possono presentarsi alla nostra attenzione, dove magari qualche indagine strumentale inizialmente ci può confondere, non ci può instradare e poi c'è l'elemento chiave che invece ci dà la chiave di volta. Quindi penso che, come ha mostrato giustamente Lelio in queste diapositive, lo spettro clinico è veramente vasto, bisogna farsi delle idee e andare via via, sviscerare il problema, ma considerando i tempi poi, in definitiva, alcune volte estremamente brevi. Quindi è vero che bisogna ragionare, ma bisogna subito, diciamo, indirizzare il sospetto clinico e questo lo possiamo fare, certo con la conoscenza dell'argomento, non c'è sempre, voglio dire, il collega come Lelio, ma si può essere magari soli, non avere sempre tutti gli strumenti, bisogna essere sempre molto mirati, anche per sapere, secondo me, quando ricoverare il paziente, che può essere talvolta un problema per, sappiamo, le problematiche, posti letto, disponibilità, quindi quando essere categorici e imporre l'ospedalizzazione per poter seguire uno schema molto più rigido, diagnostico e poi terapeutico, perché qualche volta la risposta può essere più o meno veloce, altre volte è ben più complessa, appunto farmaci come la clinica in Cina non sono sempre facilmente reperibili, bisogna, diciamo, controllare i parametri ematici e penso insomma a qualcosa di estremamente complesso su cui si deve essere pronti a riflettere e soprattutto poi ad agire in maniera opportuna. Questo, voglio dire, è il mio avviso, la mia considerazione, vedendo appunto la criticità di alcuni casi clinici, come ci ha giustamente mostrato, considerando che, ahimè, alcuni arrivano effettivamente anche all'exitus, se pensa alle rinomucormicosi che possono avere uno sviluppo ecco estremamente rapido in pazienti immunodepressi, bisogna essere allertati, ecco, che chiaramente la patologia può prendere una piega veramente, veramente severissima. Magari non è sempre così frequente, fortunatamente, avere a che fare con queste condizioni, ma bisogna essere pronti perché poi non perdonano, questo è il mio avviso. Non so se qualcuno vuole aggiungere qualcos'altro, se ci sono esperienze analoghe. Io il consiglio di Lelio sulla clindamicina non lo dimenticherò mai, mi ricordo a quel congresso organizzato da Carlo Orione in Sardegna, credo, parlare di una fascite necrotizzante che riuscì a disbrigliare, gravissima, e Lelio mi ricordò che la terapia cambiata proprio dall'infettivologo, cioè tolse lui la clindamicina precocemente, ecco, forse quello fu l'errore in quel caso lì e portò a un peggioramento dei sintomi della paziente. Quindi ho la clindamicina, non me la dimentico più, questo è poco ma sicuro. Grazie Lelio. Paola, direi di presentare la dottoressa Maria Paola Lezza. Una considerazione volevo farla io e poi magari mi farebbe piacere che Lelio pure aggiungesse, rispondesse, perché di tutto quello che abbiamo ascoltato ovviamente ci sono molte cose che sono rare, ma come giustamente Lelio ha sottolineato la parte relativa alla dacrocistiti fa parte del nostro diciamo pane quotidiano e sono i pazienti tra i più frequenti che abbiamo in oculoplastica e la riflessione rapidissima che volevo fare è la seguente, siccome ci sono anche oculisti che non sono oculoplastici in ascolto, continua a essere diciamo sottovalutata la pericolosità e la gravità di impazienti con dacrocistiti recidivanti, tuttora aggiungono alla nostra osservazione pazienti che si sono sentiti dire per magari anche degli anni prenda l'antibiotico, faccia questa cura, poi lei essendo già anziano a mio avviso può anche io al suo posto non mi farei fare questo intervento, cose che abbiamo detto in tanti nostri congressi. e non solo, questo periodo di lockdown ci ha anche messi alla prova noi che invece sappiamo la pericolosità di questi casi in quanto i pazienti che dovevamo operare sono rimasti ahimè in attesa, io sto operando ancora persone che erano previsti nel 2020, 2019. Questa riflessione perché la faccio? E spero che l'elio voglia aggiungere qualcosa, perché abbiamo visto che seppur rara c'è una complicanza molto grave e fatale che può derivare da questa condizione. Anche il fatto di manipolare in maniera tra l'altro a volte incongrua questi pazienti può determinare anche delle conseguenze. Vorrei che l'elio aggiungesse qualcosa in proposito perché fa parte secondo me del messaggio che stasera dobbiamo lasciare. Grazie. Sì, non posso che essere d'accordo, cioè troppo spesso a noi viene lasciato solo un minimo spazio. Naturalmente non è il mio caso perché sono fuori dall'Italia, però in Italia parlavo appunto con dei colleghi più giovani e molto spesso per quanto siano validi chirurghi del diciamo oftalmoplastici e delle vie lacrimarie gli vengono lasciate non so poche sedute operatorie ogni mese Pronto? Sì, dicevo vengono lasciate poche sedute operatorie ogni mese e semplicemente viene sottovalutato il loro il loro lavoro sottovalutato sia da un punto di vista diciamo dell'utilità al paziente sia da un punto di vista proprio scientifico nell'ambito dell'oftalmologia è chiaro che tutto questo io credo dipenda da un'ignoranza di base dell'oftalmologo medio italiano quindi sta a noi come SICOP valorizzare quello che facciamo non solo in termini di diciamo di patient care ma anche proprio di in termini di valore scientifico insomma esatto no mi sono anche sentito dire che una dacriocistite inserita in lista d'attesa per l'intervento non poteva essere classificata in classe B ma il paziente doveva aspettare il suo turno alcuni mesi bene Francesca allora introduciamo la nostra collega che presenterà il caso clinico beh no scusami io sabato opero una signora di 94 anni con una dacriocistite perché sono di guardia e mi chiedo l'urgenza perché se no piglia tempo e camperai operi una di 94 anni è successa anche a me io avevo quella di 93 adesso mi hai battuto ne avevo una di 93 perché magari sono 20 anni che l'oculista gli dice ma no io al suo posto aspetterei per questo io ho trovato recente operato purtroppo recentemente una signora di 50 anni che era stata trattata con una dacriocistectomia 54 anni fortunatamente le è andata male non le hanno tolto tutto il sacco ci ha provato a fare la rinostomia classica e un occhio quello diciamo sfortunato è riuscita a recuperare come diciamo la funzione dall'altro che la dacriocistectomia ha funzionato chiaramente a epifora per fortuna non è facile per fortuna non è facile togliere il sacco e quindi in questa chirurgia non è un chirurgo delle vie lacrimali spesso non ci riesce quindi riusciamo ancora a rimediare qualcosa il problema è quando si creano degli interventi delle manovre oppure delle strane intubazioni nei canalicoli lacrimali che invece in quel caso compromettono il sistema di deflusso in maniera irrimediabile però usciamo dal tema quindi non rubiamo altro tempo grazie la dottoressa Maria Paola Lezza Lezza è specializzata nel quinto anno alla Federico II quindi del gruppo di Napoli e ci presenta un caso davvero raro è stato pubblicato anche al loro gruppo e ti prego di cominciare Maria Paola buonasera un attimo solo mentre la collega si prepara volevo ricordare che i casi clinici presentati dai giovani a questi webinar uniti ai casi clinici che verranno presentati al congresso di Firenze di cui parleremo ancora dopo saranno oggetto di giudizio da parte di una commissione che premierà i due più meritevoli con una partecipazione a calico della Sicopa ad un master di oculoplastica internazionale organizzato dall'Esaso quindi invitiamo invitiamo ancora i giovani under 35 che volessero partecipare a mandare rapidamente perché il tempo sarebbe scaduto ma ancora facciamo forse in tempo ad accettare qualcosa per il congresso di Firenze ecco la collega vedo che è pronta Paola io ti suggerisco visto che so quello di cui stai parlando scrivi solo il caso perché poi per il resto direi che è inutile dopo le le ho scritte tutto il resto la review possiamo andare oltre va bene ok ma lasciamo il tempo che merita alla collega se vuole però avendo visto le relazioni chiaramente se avevo già pensato grazie comunque buonasera a tutti allora presento un caso di una donna di 50 anni che in anamnesi ha una storia di cellulite rapidamente progressiva in occhio destro non responsiva al trattamento antibiotico e cortico steroideo trattato appunto soccorso la paziente successivamente sviluppa endoftalmite e quindi successivamente perforazione bolbare per cui viene trattata con un faccio congiuntivale giunge alla nostra osservazione con febbre linfocitosi neutrofila fructosi edema palpebrale ipotonia iperemia congiuntivale edema corneale e un segmento posteriore non valutabile chiaramente per opacità edema corneale e un'acuità visiva all'occhio destro di percezione luce a risonanza magnetica si evidenzia appunto la presenza di un tessuto infiammatorio in serie periorbitaria che coinvolgeva anche il bulbo oculare la presenza di tessuto a livello del seno mascellare e delle cellette pulmoniali per cui abbiamo eseguito un esame culturale su un prelievo di fluido ottenuto dalla cavità orbitaria e contestualmente iniziato una terapia empirica antibiotica costituita da ampicillina levoxacina metronidazolo e tobramicina topica una volta ottenuto il risultato dell'esame culturale che ha rivelato la presenza di propine bacterium e bacteroides abbiamo richiesto consulenza infettivologica che ha i quali colleghi hanno switchato l'ampicillina con mancomicina confermando invece levoxacina metronidazolo e tobramicina topica dopo una settimana dal trattamento abbiamo avuto un miglioramento sistemico notevole ma l'esame obiettivo oculare era invariato per cui per avere una source control abbiamo deciso di procedere alle visceracce alle visceraccio soprattutto per diciamo eradicare la presenza di un eventuale papulum resistente abbiamo richiesto poi consulenza maxillofacciale e la paziente presentava una scarsissima igiene orale carie diffuse e all'ortopantomografia una riduzione dell'osso sia verticale che orizzontale che confermava la diagnosi di infezioni orontogene e parodontite è stata fatta quindi una fibroscopia nasale che ha evidenziato la presenza di infiammazione purulenta nel miato inferiore destro nel processo sul cinato destro è stata fatta quindi una bonifica del cavorale e un'aerosolterapia con l'incomicina xilometazzolina cloridrato becometasone e amoloxolo una settimana dopo l'indagine radiologica quindi alla risonanza si è potuto osservare una risoluzione quasi completa quindi del tessuto infiammatore a livello periorbitario ma soprattutto anche a livello del seno mascellare e delle cellette etmoidali a una settimana a un mese e ad un anno non sono state segnalate precedive di processi infiammatori a carico dei seni paranasali e dell'orbita questi slide vado oltre questi altri due sono altri due casi di pazienti con cellulite orbitale questo paziente si presentava alla nostra attenzione con chemosi congiuttivare softalmo distopia ed edema palpebrale e all'ATAC si evidenziava la presenza di tessuto infiammatorio a carico del seno mascellare etmoidale e della parete mediale dell'orbita anche in questo caso l'esame obiettivo della cavità orale dopo consulenza con i maxilofacciali ha evidenziato la presenza di una carie a livello del primo morare e alla fibroscopia un'infiammazione purulenta del meato superiore medio ed inferiore apparteneva a questo paziente al secondo gruppo di Chandler ha iniziato un trattamento con vancomicina levofloxacina metronidazolo e tobramicina atopica e una settimana dopo abbiamo avuto un miglioramento clinico notevole in seguito anche abbonifica del caporale ed antrostomia endoscopica dell'osso e del seno mascellare e queste sono le immagini fotografiche radiologiche post trattamento così come quest'altro paziente uomo di 17 anni con un'erema palpebrale superiore e una limitazione della motività oculare alla risonanza riscontriamo la presenza di tessuto infiammatorio nel seno frontale timidale e mascellare con erosione della parete mediale dell'orbita e una dislocazione del muscolo retto mediale con edema dei tessuti molli all'ortomantomografia si è riscontrata la presenza di una lesione periapicale di circa 3 mm e una soluzione di continuità a livello del dente 2006 è iniziato il trattamento con vancomicina levofloxacina metronidazolo e sovramicina atopica l'emocultura ha rivelato uno staphylococcusarius e una settimana dopo dall'inizio della terapia si è avuto un miglioramento clinico notevole sempre in seguito anche ad una bonifica del caporale e a drenaggio dell'ascesso a livello del seno mascellare e queste sono le immagini fotografica e radiologica del paziente dopo circa una settimana per cui il messaggio che è con message è che la cellulite orbitaria come ha detto il professore è chiaramente una odontogene rara ma è una causa potenziale di complicanza severa come la perdita visiva una diagnosi precoce è essenziale per programmare un corretto piano terapeutico multidisciplinare e per prevenire complicanze anche fatali e il trattamento chirurgico è efficace soprattutto negli stati iniziali della patologia e si basa sul drenaggio dell'ascesso e sulla rimozione della nozza patogena grazie grazie faccio giusto un cenno sul fatto che come vedete uno dei pazienti portava un sondino nasogastrico non so se avevate focalizzato questo piccolo dettaglio lo spiego perché i tempi sono chiaramente coincisi legato fondamentalmente al fatto che in seguito all'ascesso ad ontogeno si era creata una fistola oroantrale quindi al di là del trattamento se non si bypassava il sistema si andava ad autoalimentare l'infezione con la contaminazione del cavo orale quindi questo è il motivo lo dico per chiarezza del sondino nel secondo paziente e ci piaceva mostrare questi tre casi perché avevano gravità molto diverse da una diciamo più contenuta del giovane ragazzo di cui si vedeva fondamentalmente l'automifazione mascellare al signore appunto col sondino che seppur meno eclatante andava a rischio di complicanza seria proprio in causa alla fistola alla signora che purtroppo è giovane era anche una signora relativamente giovane appunto e ha avuto una prognosi in pausa in definitiva per una cellulite da una carie odontogenea tutto qui grazie grazie Maria Paola per i bei casi clinici che ho presentato Giuseppe no volevo ricordare che contrariamente a quanto diceva Lelio prima in realtà questa piattaforma ci consente anche di interagire per cui i colleghi che sono in ascolto possono intervenire ovviamente o fanno un segno oppure gli attiviamo il microfono quindi se ci sono domande possono essere fatte anche direttamente nel frattempo ce n'era una di Daniele Lorenzano che ho riportato nella chat visto che Lelio ha già risposto se ci sono altre domande approfittiamo della presenza di Lelio e di questo argomento cioè quando si parla di orbita c'è sempre un pochino un po' di reticenza da parte di tutti le palpebre magari le vie lacrimali sono sempre più entusiasmanti per tutti però questo è anche perché poche persone si occupano di orbita e quindi a mio avviso serve ancora di più fare questi incontri per trattare argomenti che non sono proprio sempre alla portata di tutti adesso c'è anche Daniele tra poco che non era commesso vogliamo ripetere la domanda del dottor Lorenzano vogliamo fare un ulteriore commento o no no leggila pure sì dai visto che ce l'hai sotto Lelio ho visto che qui Daniele Lorenzano chiede c'è un cluster di pazienti pediatrici non infanti e non adolescenti che rispondono in maniera molto più aggressiva nelle cellulite orbitarie ti comporti in maniera diversa nel follow up e monitoraggio delle prime ore di ricovero Lelio vuoi rispondere hai già risposto fondamentalmente noi ricoveriamo tutti questi pazienti pediatrici in subintensiva quindi non stanno nella nostra corsia ma vanno in subintensiva normalmente viene dato una dose di attacco di 40 mg di augmentin per chilogrammo di peso corporeo al giorno questa è la dose di trattamento può essere portato a 60 mg per chilogrammo di peso corporeo grazie grazie mille grazie mille Lelio ci sono altre domande c'è qualcun altro che vuole intervenire rispetto al tema vedo un nuovo messaggio grazie Lelio Giuseppe penso che possiamo concludere se non ci sono altre domande ringraziamo i relatori prima di concludere volevo ribadire quanto ho detto nell'introduzione ovvero innanzitutto che ci sarà un prossimo webinar che sarà l'ultimo del 2021 non sappiamo se poi ripeteremo questa esperienza anche in futuro come sapete è stata un'iniziativa del gruppo di lavoro sulla formazione dell'organizzazione congressuale che è coordinato da Luigi Colangelo al quale poi lascerò la parola per dirci del congresso ci sarà quindi un ultimo webinar il mese prossimo e poi a dicembre ci sarà il congresso quindi arriverà la locandina aggiornata ma vi anticipo che abbiamo quindi fatto slittare l'ultimo webinar che sarà sull'estetica palpebrale al 18 di novembre quindi il terzo giovedì quindi non l'ultimo ma il penultimo perché l'ultimo giovedì c'è la SOI e quindi la cosa avrebbe creato sovrapposizione ribadisco appunto che siete tutti invitati al nostro congresso che adesso chiedo a Luigi un po' di presentarci io intanto nel frattempo se riesco condivido lo schermo così faccio vedere anche la locandina e un'anticipazione del programma Luigi a te la parola grazie mille buonasera a tutti mi fa sempre molto piacere vedere che comunque c'è un gruppo di partecipanti fidedizzato e questo ci dà diciamo in qualche modo di idea che questa iniziativa ha avuto un buon seguito per quanto riguarda due commenti per quanto riguarda la presentazione fatta dalla dottoressa Maria Paola Rezza complimenti prima di tutto l'obiettivo di questi webinar sarebbe più che altro proporre delle diciamo dei casi clinici sul quale discutere quindi ottima la presentazione sarebbe stato meglio averla presentata in modo tale da poter poi discutere il caso o i casi in questo caso perfetto l'invito è per prima di tutto appunto novembre per questa presentazione di Renata Magliardi che concluderà questo anno di webinar sulla valutazione del terzo superiore del volto ai fini di un transito della nostra subespecializzazione e poi vi invito ovviamente come vedete sul video a Firenze per finalmente rincon e qui è stata pensata una cosa un po' diversa cioè dare spazio appunto ai ragazzi e ai giovani e in questo modo dare una giornata il sabato ai psicopo young presentazione di casi clinici di casi problema eccetera Fire Presentation sulla parte diciamo differenziata dell'oculoplastica ovviamente il giorno prima ci sarà tutta una serie di situazioni legate a premi e a presentazioni un po' più consistenti ma il premio Marco Fuccioni prima di tutto e comunque appunto l'idea è quella di coinvolgere quanto più possibile i giovani partecipanti i giovani si intende anche giovani nel senso di che ora iniziano a fare esperienza inoculoplastica anche se di età non proprio giovanissima in modo da presentare le loro problematiche e le loro prime esperienze e poterle discutere assieme cioè cercare di non fare un terrorismo psicologico del hai sbagliato qui hai fatto male lì ma anzi stimolare e discutere insieme sulle prime esperienze come poter superare alcune difficoltà che all'inizio sembrano insormontabili e poi magari con l'esperienza sembrano troppo banali ma di banale nella nostra specializzazione in medicina non c'è mai nulla grazie grazie mille a tutti e ridò la parola a Paola così può concludere la sua mediazione grazie che dire penso che abbiamo detto tutto siamo solo ecco goiosi come dicevi giustamente di potersi confrontare in una maniera attiva fluida dinamica come abbiamo sempre fatto essendo una piccola famiglia ma pronta ad allargarsi come dici perché il futuro è nella condivisione le intersezioni quindi sicuramente ci auguriamo che questo congresso ci riporti un po' diciamo uniti e aumentati aprendo un po' le nostre finestre sì speriamo che si possa avere diciamo l'utilizzo della sala degli spazi congressuali al cento per cento credo che ormai dovremmo essere quasi certi però aspettiamo la conferma e quindi aspettiamo numerosi abbiamo scelto Firenze malgrado il congresso dell'anno prossimo sia nuovamente in Toscana perché sarà a Lucca che doveva essere l'anno scorso poi quest'anno l'abbiamo fatto slittare ulteriormente Firenze è stato scelto sia in omaggio di Marco Puccioni che ricorderemo anche con il premio ma anche per la sua posizione logisticamente favorevole a molti con un frecciarossa un Italo si raggiunge Firenze abbastanza rapidamente per cui il congresso comincerà subito dopo il pranzo del venerdì e si concluderà all'ora di pranzo del sabato saranno due mezze giornate molto intense e quindi vi aspettiamo numerosi ci sarà questo taglio giovanile che rappresenta un po' la mission di quello che è stato questo triennio del direttivo SICOP che ho avuto l'onore di presiedere e poi ovviamente come da tradizione vi aspettiamo tutti venerdì molto numerosi venerdì sera ci sarà il SICOP party ormai lo chiamiamo così quindi un momento di socialità che ci serve dopo tanto tempo che ci siamo visti solo in video e poi sabato questa bella sessione giovanile con alcuni intermezzi ci sarà la SICOP lecture di Mininni ci sarà poi la lecture del vincitore del premio Puccioni che potrebbe essere un italiano ma il premio è internazionale e anche un'altra lecture sulla terapia antibiotica e la resistenza antibiotica quindi ristretto il programma ma molto ricco e interessante forse Luigi non l'ha detto la giornata del venerdì sarà incentrata particolarmente sulla patologia tumorale in oculoplastica ringrazio a tutti i partecipanti stasera ho visto ci sono persone di tutte l'età anche molti specializzanti studenti in medicina sono felice di questo continuiamo così poi le visualizzazioni andranno avanti ancora su Facebook molti ormai si sono presi sto vizio di non essere presenti e di vederselo dopo però vogliamo bene a tutti ugualmente grazie Francesca per dedicarti a rendere queste sessioni fruibili a tutti e se non ci sono altri che vogliono aggiungere qualcosa io vi saluto calorosamente dalla Calabria speriamo che domani non arrivi il ciclone anche qua comunque vi farò avere le mie notizie se non so grazie grazie a tutti mi ha detto che ti volevo rivedere e tu ti volevi far prendere il ciclone mandiamo un salvo allerta allerta arancione mi è appena arrivato un messaggio allerta arancione quindi sopravviveremo sei sei grazie Lelio per la tua infettabile presentazione ciao ciao a tutti ciao arrivederci ciao Paola grazie ciao ciao a tutti ciao Giuseppe